Allora ragazzi vorrei iniziare dedicando questa diretta ovviamente a tutti i volontari, i medici, protezioni civile, rabbinieri, polizia, tutte le persone che sono infermieri, soprattutto infermieri a questo posto di oggi, che sono impegnati in questa cosa e c'è una richiesta particolare da una bambina che mi sta molto a cuore, che mi ha chiesto se li potevo fare un saluto e volevo salutare l'associazione Sindrome di Kabuki, Nord-Est e in particolare Giulia, a cui mando un bacio, gli dedichiamo questa canzone. Allora 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 Ho fatto quello a me si può, non sento più lo toccherò, c'è troppo la verità in ogni solidità. Non penso mai a tuo cuore, Signore della voce canta, si cerca la regocia, Alleluia! 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 Alleluia